Ben tornati su CiperTV. Oggi è martedì 5 marzo 2019. Avremo 21 15 9 deadlift con 100 oppure 70 kg a seconda che siate ragazzi o ragazze, dei GHD sit up e a ogni giro dovremo fare 100 double unders. Mica male questo. Pesi scalature come al solito sulla grafica. Per oggi è tutto, se sopravvivete ci vediamo domani mercoledì per un nuovo WOD su CiperTV.